Buongiorno, sono Salvatore Coluccia, sono un chimico dell'Università e sono membro dell'Accademia delle Scienze. Oggi parlerò di plastica, un argomento che diventa attuale, presente con tante notizie. Premetto alla mia conferenza, alla mia chiacchierata, una slide che contestualizza un po' il problema. L'ho chiamata premessa. La plastica fu inventata convenzionalmente nel 1860 per sostituire le palle da biliardo, perché le palle da biliardo erano di avorio, che era molto costoso, allora cercarono un materiale che potesse sostituire l'avorio. Lo trovarono e questa fu la celluloide. Quindi la plastica al mondo si presentò bene, perché salvò decine, centinaia di migliaia di elefanti in effetti. Dopod'allora la plastica ha attraversato la rivoluzione industriale, la belle époque, le guerre, allegrie e tragedie naturalmente fu certamente protagonista della ricostruzione dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale, quindi del miracolo economico. Allora è diventata così importante, così invasiva che secondo me conviene capire com'è fatta, perché ha avuto tanto successo e che cosa possiamo fare per conviverci meglio. L'ho chiamata amica ingombrante, amica perché lo vediamo intorno a noi sempre, ma direi proprio senza esagerare ogni istante della nostra vita, ingombrante perché proprio per questo lo è. E allora chiediamoci da dove viene e dove va. Questo ci fa capire poi i problemi che possono nascere. Dov'è la plastica? Nella nostra vita quotidiana, non illustro, non commento le immagini, dico nella costruzione ce n'è almeno il 20%, 60% della plastica prodotta è utilizzata per gli imballaggi, i trasporti, l'agricoltura, i presidi medici, qui. Questo l'ho un po' evidenziato perché queste sono immagini che sono diventate tragicamente frequenti in questi giorni. Poi nell'abbigliamento, nei giocattoli, negli arredi, nell'elettronica potrei continuare, tanto che ad un certo punto penso che la domanda giusta sia chiedersi dove non è presente la plastica. Bene, vi assicuro che anche in questa domanda, a questa domanda non è facile rispondere. Sono pochissimi i settori, se ce ne sono, nei quali la plastica non è presente. Intanto diciamo che non dobbiamo parlare di plastica, ma di plastiche. Questo sarà importante per capire anche la natura dei problemi che abbiamo. Faccio un esempio soltanto. nell'automobile ormai il 20% del peso dell'automobile è fatto di plastica. Di plastiche, lì ne vedete elencate una mezza, una dozzina, non stiamo a leggerle, però in quella torta a settori si vede che ci sono quelle più abbondanti, quelle meno abbondanti. Di queste dozzine ce ne sono alcune che sono proprio poco poco presenti, ma svolgono funzioni importanti all'interno dell'automobile. Allora, che cos'è la plastica? Dobbiamo parlare del carbonio. Il carbonio è uno dei 120 elementi della tabella periodica, importantissimo, sarebbe bello parlarne a lungo un giorno. Si presenta come carbone puro, come carbone è più o meno puro, come diamante, però per noi chimici gli elementi della tabella periodica sono come le lettere di un grande alfabeto, 120 caratteri, come ho detto, e si uniscono fra di loro per dare le molecole. E le molecole, di nuovo, per un chimico sono come le parole. E le parole possono essere corte, lunghe, lunghissime. E il carbonio è proprio speciale sotto questo aspetto, perché può generare lunghe catene. Primo Levi, sempre lui, nel sistema periodico, parlò del carbone, disse che aveva un comportamento singolare, poteva legarsi a se stesso tanti atomi di carbonio gli uni agli altri per dare lunghe catene senza spendere molta energia. Questo è importante. Altri elementi possono dare lunghe catene, però il carbonio lo può fare legandosi a se stesso, legandosi all'idrogeno, all'ossigeno, senza richiedere molta energia. Diciamo semplicemente, è facile per la natura generare queste catene. Quello è un esempio di una catena corta, è però il carotene, il giallo della carota. Vedete, è una piccola catena che genera un colore così caratteristico. In realtà questa questione delle catene è importante, delle catene di atomi di carbonio, perché non c'è forma di vita sulla terra, vegetale animale, che non richieda lunghe, 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 lunghissime catene. Pensiamo nelle nostre proteine, ma non parliamo di questo. Oggi entriamo, parlando di queste catene di atomi di carbonio, entriamo nel mondo delle fibre. Tutto questo discorso introduce al tema della plastica, ma non solo per rendercelo più familiare, ma anche per capire come sono andate le cose nel mondo. Guardiamo un poco che cosa succede, che cosa ha fatto la natura in questo campo. Bene, c'è una foresta bellissima e speriamo che resti sempre così bella. Ci sono delle palme su un lungomare piegate dal vento e non si spezzano. Un vento fortissimo. Come mai questo? Bene, la ragione sta nella struttura del legno. C'è tre componenti principali. La cellulosa, sono simili, ma la cellulosa è la più nota come nome. Ora, queste componenti sono in realtà delle lunghe catene di atomi di carbonio. I pezzettini piccoli di ciascuna di queste catene sono molecole di zucchero, sostanzialmente, e combinate fra di loro, intrecciate, con altri materiali che le tengono insieme, danno al legno quelle caratteristiche, in particolare quella resistenza. Io penso a alberi alti 30 metri che non vengono assolutamente, non vengono spezzati anche da venti forti e questo io lo trovo sempre straordinario. Un altro esempio, poi passiamo al nostro tema, però un altro esempio naturale, il caucciù. Il caucciù è la gomma naturale. Gli azzecchi nel 1500 avanti Cristo lo conoscevano e è stata trovata una palla di caucciù che risale a quelle epoche e la statuina di un giocatore di palla a seco, 1500 anni avanti Cristo, più di 3000 anni fa. Che cos'è il caucciù? È naturale, ci sono degli alberi e c'è una resina che geme dalla corteccia degli alberi che viene intagliata proprio per liberarla. Questa resina veniva fin dai tempi più antichi lavorata, se ne producevano fogli e questi fogli servivano a produrre poi gli oggetti che si desideravano. Ma che cos'è il caucciù? Ecco, diciamo intanto che era noto come ho detto da più di 3000 anni, però come si dice spesso nel 1700 fu scoperto dagli occidentali e importato in Europa, elastico, leggero, aveva tante attrattive. Divenne così popolare, la domanda di caucciù divenne così grande che gli inglesi rubarono letteralmente, trafugarono dei semi di quelle piante che erano protetti in America Latina e le impiantarono in Asia. Questo cambiò totalmente la storia di grandi parti di quei paesi, perché divenne una produzione intensiva, furono coperti letteralmente, tutti i commerci naturalmente legati. Ma a parte questa storia, che cos'è il caucciù? Beh, in sostanza nel caucciù ci sono catene di atomi di carbonio con un po' di idrogeno molto lunghe e tutte queste catene si formano legando insieme tanti di queste molecole più piccole, che si chiama i soprene, quel monopolo. Legandone tanti assieme si ottiene una lunga catena e queste catene insieme fanno fibre e fanno poi il caucciù che abbiamo visto prima. Era già bello, ma bisognava migliorarlo. E allora nel 1850 ci fu una grande innovazione, perché il signor Goodyear scoprì che aggiungendo un po' di zolfo al caucciù naturale migliorava molto. E quella era la funzione dello zolfo. La funzione dello zolfo era quella di legare le catene fra di loro. Questo rendeva il materiale molto più resistente, molto più riproducibile e quindi molto più affidabile. tant'è, si usa in tanti casi naturalmente, ma voi pensate alle caratteristiche che deve avere un copertone, deve essere durevole e sicuro soprattutto. Questo processo si chiama vulcanizzazione. In seguito, ecco, questo che dico sarà anche un po' la storia di innovazioni che si sono succedute. in natura sono presenti queste cose. L'unghia, catene, fibre legate fra di loro. Dove entra la plastica? Beh, l'avevo anticipato, se ne parla diciamo dal 1860, però come fu fatta? Naturalmente fu fatta utilizzando quello che c'era già, perché era economico, e che erano le fibre naturali. Cioè, si cominciò da questo, partendo dalla cellulosa, che l'abbiamo vista, è una delle componenti dell'ing. La cellulosa sono lunghissime catene di molecole di zucchero, molecole semplici legate le une alle altre. Furono inventate alcune plastiche, la celluloide, quella di cui ho parlato prima per le palle di miliardi, il cellofan, l'acetato di cellulosa. Per 50 anni queste furono le plastiche disponibili. Quindi, diciamo, plastiche da fibre naturali, già molto utili, giocattoli, su pellettili, oggetti anche industriali, bastoni, insomma. Poi intervennero le plastiche sintetiche. Come mai? Che cosa succedeva? Beh, c'era un grandissimo bisogno di plastica. Però ormai, negli anni 10-20, si era diffuso la produzione e la lavorazione del petrolio. Il petrolio, fra le tantissime cose che contiene, contiene anche delle molecole piccole. Uno, due, tre atomi di carbonio, quattro. Molto semplici, spesso volatili o comunque liquidi. E questi qui erano sottoprodotti, fra questi c'è l'etilene, sottoprodotti della lavorazione, dell'estrazione della lavorazione del petrolio e venivano bruciati molto spesso. Le fiamme che si vedevano in cima alle ciminiere delle raffinerie, per esempio, erano in parte prodotte dalla combustione di queste molecole, di queste componenti. Quindi quella, però, guardiamola come una cassetta degli attrezzi, perché ciascuna di quelle molecole ha la capacità di legarsi a se stessa per creare catene. Vedremo poi questo come si può fare. E allora che cosa succede? avevamo disponibili e sprecate, economiche, tutto questo ben di Dio. Queste molecole, dicevo, si legano fra di loro e lì faccio un esempio di una catena che può essere sterminata di un polimero artificiale. Come vedete una successione di atomi di carbonio, sono quei pallini più scuri, di nuovo con un po' di ossigeno. Quello è un polimero artificiale. Bene, lavorando, fra l'altro, questo è fatto con molecole tutte uguali, ma possiamo mescolare le molecole fra di loro e fare catene complicate. Insomma, in pochi anni furono inventate, letteralmente inventate, molte plastiche diverse. E ancora oggi si continua ad inventare plastiche diverse su a migliorare quelle che esistono. Io lì mi fermo al 1954 per una ragione che vedremo subito, questa del polipropileno isotattico. Quindi vedete c'è una lista piccola rispetto a quelle che già allora si conoscevano e di alcune parleremo. Quindi tra gli anni 20 e gli anni 50, diciamo, fra le due guerre e subito dopo la guerra ci fu un'esplosione nell'uso della plastica con grandi successi della ricerca di base chimica e dell'industria chimica. Questo è un connubio ricerca-industria che nella chimica è particolarmente stretto e che ha determinato veramente il successo della ricerca e dell'industria insieme. Perché tutto questo successo? Ma io, guardate, li leggo queste proprietà perché i materiali plastici sono incredibili, sono resistenti, flessibili, trasparenti, leggeri, economici e molto abbondanti. Pensate a quella pellicola di film, la storia del cinema, ma che cosa ha significato per tutti noi? E poi giocattoli e mi sono fermato solo a quello. Però c'erano grandi problemi in tutto questo e i problemi erano legati al fatto che i materiali non si ottenevano sempre con la stessa riproducibilità, quindi non sempre erano affidabili e soprattutto molti processi, tutti i processi, capita sempre questo nella produzione chimica, i processi per ottenere qualche cosa erano inquinanti, potevano essere inquinanti e molto dannosi per l'ambiente. Allora voglio far vedere due grandi storie di successo, proprio di nuovo, della ricerca di base e dell'industria chimica. Infinite ce ne abbiamo visto già quella dei copertoni, della vulcanizzazione col cauccio, ma guardiamone due solo, due fra le tante perché ci sono vicine. Ci fu una svolta epocale negli anni 50 che poi produsse un premio Nobel nel 63 a Giulio Natta e a Carl Ziegler, un italiano e un tedesco, questo non è un caso perché le cose in realtà sono legate alle necessità anche della seconda guerra mondiale, che era appena finita. Comunque fu un'invenzione talmente importante che produsse il polipropilene isotattico, non spaventatevi per il nome, poi ci torneremo, fu così e riconosciuta così importante che nella motivazione del premio Nobel si disse questa scoperta avrà ricaduta, che non riusciamo neanche ad immaginare per decenni e decenni. E così è stato. Ma che cos'è così straordinario nell'invenzione di Natta e di Ziegler? Beh, loro volevano produrre il polipropilene che già si produceva, esisteva già quella fibra, però la volevano produrre in modo, cioè con proprietà migliori. E allora quello che videro, ma fu un prodotto di una ricerca, non fu un caso, è che aggiungendo una piccola quantità di sostanze inorganiche, anche queste potrebbero ma pochissimo proprio, sostanze che poi non c'entrano niente col polimero, non è che restano nel prodotto finale, cioè dei catalizzatori in sostanza a base di titanio e di alluminio, beh, in presenza di quelle tracce di quelle sostanze il polipropilene si polimerizzava ma dava un composto migliore. Cioè prima dell'invenzione di Ziegler è nata, le miscele di catene erano disordinate, avevano geometria diversa, da questa derivava una affidabilità non soddisfacente. Cioè i materiali erano poco controllabili, ormai l'industria aveva bisogno di materiali molto controllabili. Dopo l'invenzione di Ziegler nata, le catene divennero tutte uguali e con un preciso ordine spaziale. Cioè i materiali erano diventati, sempre polipropilene, erano diventati molto più omogeni e molto più controllabili. Questo è importantissimo per qualunque oggetto, ma pensate agli oggetti industriali, agli armamenti, perché c'entra purtroppo questa. Benissimo, perché questo? Vediamolo, è semplice, è semplice vederlo. Quello è un modello di una catena, di un pezzo di catena del polipropilene. Voi guardate quegli atomi, quelle catene di atomi, quelli neri sono atomi di carbonio. Non sto a darvi i dettagli, ma voi lo vedete che è ordinato. Vedete che ci sono gruppi di atomi che stanno tutti dalla stessa parte della catena. Sono ordinati nello spazio. Per la chimica, per i prodotti chimici, è importante non soltanto come gli atomi si legano fra di loro, ma è importante come sono disposti nelle tre dimensioni. Bene, questo era il Moplen. La Monte Catini lo commercializzò come Moplen. Qui ci sono esempi di oggetti domestici prevalentemente, ma anche industriali. Mi sono fermato qui, solo a quei tubi del trasporto di energia e di cavi. Fu così popolare che i caroselli di Gino Bramieri che lo pubblicizzavano furono indimenticabili, ma ancora adesso ho visto che vengono visti. Un'altra storia, il nylon. Negli anni 30, sostanzialmente, fu inventato il nylon, che è un polimero di una molecola piccola che è un ammide. È quella molecola che vedete lì. Di ammidi ce n'è tante e in realtà anche tanti nylon furono inventati, un po' diversi l'uno dall'altro, ma sostanzialmente nylon il concetto era quello. Anche lì lunghe catene, fibre. E fu una cosa importantissima, fu una rivoluzione dei costumi. Quello è il manifesto dell'epoca. Quella signora fa vedere orgogliosa della sua calza, con la cucitura dietro, e all'epoca ogni donna americana consumava otto paia di calze di seta al mese. Ma la seta veniva improdotta dal Giappone e era molto cara. Allora si cercava un materiale che potesse sostituire la seta con lo stesso effetto. Non erano solo le calze di nylon, c'erano i tessuti di seta. Bene, se ne consumavano già allora milioni di tonnellate all'anno. Ma anche qui c'era un problema. Il problema era che il processo industriale per arrivare alla produzione del nylon era un disastro. Si produceva un chilogrammo di nylon e 10 kg di scarti. Alcuni di questi scarti erano proprio brutti, erano aggressivi, acidi, basi, ingombranti, sali. Per cui con quella quantità di nylon richiesto la situazione era insostenibile. E allora nell'83 ci fu anche qui una grande invenzione. Questa fu proprio tutta italiana alla Montedison. Gli scienziati della Montedison inventarono un processo quasi pulito. Quasi pulito nel senso che aveva eliminato la maggior parte dei passaggi inquinanti. Ripeto, i prodotti chimici richiedono sempre vari passaggi. Alcuni di questi possono essere molto dannosi. lì riuscirono ad eliminarli. Come? Beh, di nuovo con un catalizzatore. Una sostanza che lì, questa è una bella sostanza, però sostanzialmente, guardate, è silice. Con qualche atomo di titanio ha sparso quella. Un catalizzatore. Non c'entra con il nylon, non lo ritroviamo nel nylon, però fa produrre, consente di produrre il nylon in modo molto più semplice, con molti meno passaggi. E quindi i passaggi più inquinanti in questo modo furono eliminati. Qui faccio vedere solo degli oggetti domestici, le calze naturalmente, però industria, macchine, macchinari dell'industria, i trasporti, di tutto. In tutti troviamo del nylon con varie caratteristiche. Allora, sembra una favola, francamente, anche a me, ma non me la dici, però una bella storia, una bella storia di ettofine. Però ci sono problemi? Beh, ci sono naturalmente problemi, ma mi fermo su uno che oggi sembra quello più, che ci coinvolge di più. Ed è legato, e poi ha una questione, la quantità di plastica prodotta. In un anno si producono 350 milioni di tonnellate, che vuol dire 130 volte il volume delle piramidi di ossigeno. La plastica è leggera, quindi un chilo è tanto in termini di volume. Queste sono 350 milioni di tonnellate. Abbiamo detto che una delle proprietà è di essere resistente, durevole, fra l'altro. Bene, dove finisce questa enorme quantità di plastica? Si fa tanto in modo virtuoso. C'è la raccolta differenziata, viene in buona parte riciclata, quello che non si riesce a recuperare, a riciclare, viene bruciato. Neanche qui si recupera energia. Ci sono processi che si stanno sviluppando adesso, che io dobbiamo sperare che si realizzino, che è la depolimerizzazione, che vuol dire distruggere le catene che sono state prodotte inizialmente a fine uso per ottenere i monomeri che le avevano prodotte e quindi ricominciare, ma anche idrogeno e l'idrogeno è molto importante, come sappiamo, per le prospettive che ha di vettore energetico. Però, nonostante tutti questi comportamenti virtuosi, il 30-40% della plastica viene dispersa nell'ambiente. e dove va? Sulla terra e capita di vedere, quelle che vediamo in genere non sono così estese, ma ci sono delle distese di oggetti di plastica abbandonate e va nel mare. Nel mare tutto finisce nel mare. Qualunque cosa noi buttiamo, prima o poi, finisce nel mare. Bene, nel mare c'è una quantità di plastica incredibile. C'è addirittura, nelle coste del Pacifico, si sono formate isole di plastica, per effetto delle correnti che ci sono in quella zona, che sono cinque volte più grandi dell'Italia e sono spesse decine di metri. E quella lì è una. Se l'è in grandissimo vedremo secchi, spazzolini e così via. Bene, lì si vedono gli oggetti grossi di plastica abbandonati. Però questi oggetti poi si frantumano e generano micro particelle, microplastiche che non si vedono occhio nudo, ma insomma sono ancora abbastanza grosse. Ma a loro volta le microplastiche si frantumano e generano particelle ancora più piccole, che sono le nanoplastiche. Bene, a sto punto si perde il controllo delle nanoplastiche, queste si disperdono. Il problema è nel mare essenzialmente, dove tutto va a finire, dove c'è tempo per che questo avvenga, e queste nanoplastiche possono entrare nella catena alimentare. I pesci le mangiano. Le plastiche non sono di per sé pericolose, l'abbiamo detto, sono inerti, però i pesci mangiandoli ne ricavano una sensazione di sazietà e comunque li riempie, tanto che finiscono di non mangiare. Oppure i pesci stessi vengono mangiati dagli uccelli, che a loro volta vengono, vanno a finire da qualche altra parte. Oppure i pesci li mangiamo direttamente. Insomma, sono un problema. A che cosa deriva questo problema? E siamo quasi alla fine. Deriva, è legato alla degradazione dei materiali. Tutti i materiali si degradano in un modo o nell'altro. Qui parliamo di plastiche, ma tutti i materiali in acciaio, in ghisa, i ponti, in cemento. Ma stiamo alla plastica o agli oggetti che contengono fibre. Guardate, qui ne ho collezionati un po'. Alcuni si degradano in pochissimo tempo. Vi faccio vedere il torsolo di mela, ma qualunque prodotto vegetale si degrada in due o tre mesi. E' meno male quello che deve succedere, perché rientra subito nel ciclo. Il cotone, che è una fibra cellulosa pura, naturale, quindi, si degrada anche lì in pochi mesi, un anno e così via. Però le plastiche sintetiche no. Ve le ho evidenziate. Le plastiche sintetiche possono durare centomille anni. E poi semplicemente si frantumano e scompaiono, ma non è che scompaiano dall'ambiente. Centomille anni sono proprio tanti. Allora, questo spiega i fenomeni che abbiamo visto prima. La chimica ci fa capire perché. Quella è una fibra sintetica, una catena di atomi di carbonio sintetici. Tutti atomi di carbonio legati gli uni agli altri. Bene, quella molecola lì è inattaccabile da batteri, da agenti chimici, che sono quelli che invece distruggono, per esempio, tutti i prodotti vegetali. Quei legami lì sono belli, stabili. Le plastiche sintetiche, parlo in generale, insomma, non sono degradabili. Però sono insostituibili in moltissime funzioni. Proprio perché sono resistenti, leggeri, trasparenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono non degradabili, ma utilissime. Le fibre vegetali o le bioplastiche, perché si ottengono materiali plastiche e dalle fibre vegetali sempre di più, sono invece degradabili. Voi vedete, in quella catena ci sono atomi di carbonio, quelli di grigio scuri, e quegli atomi rossi sono ossigeno. Ci sono zone della catena che possono essere attaccate dai batteri o dagli agenti chimici. Plastiche, anche queste, sono utilissime in alcuni settori, ma non possono sostituire quelle sintetiche in altre. Quindi, bene che si diffondano, tra l'altro bisogna che non vada in competizione con la produzione di alimenti, ma ci sono problemi sempre da tutte le parti, però utili, ma non possono sostituire tutto. E allora che fare? Bene, possiamo dimenticare le plastiche? Da quello che ho raccontato è chiaro che è impossibile, perché io mi sono fermato sugli aspetti più civili, quotidiani, ma ripeto, le industrie, tutto. Bene, abbandonare le plastiche è impossibile. Possiamo inventare nuove plastiche? Sì, si sta facendo, ma i risultati sono parziali, sono buone, ma sono parziali. Possiamo cambiare le nostre abitudini? Questo è facile farlo ed è efficacissimo. Voi pensate soltanto alle buste di plastica che una volta riempivano le nostre case, poi l'ambiente, poi i fiumi e poi i mari. Bene, le hanno vietate, abbiamo imparato a sostituirle, o con altre buste di plastica che però si sa che non sono della stessa qualità, con le stesse caratteristiche, o con buste di carta. Però vi faccio un esempio, questi oggetti monouso. Questi oggetti monouso si usano pochi minuti, a volte pochi secondi e durano secoli. Si possono sostituire già oggi con altri prodotti, con altri materiali che sono compostabili, che si possono degradare, magari costano un po' di più, ma sono sempre economicissimi e c'è un grande vantaggio. Su questo noi ci possiamo chiedere, ma insomma è possibile, dico ritorno al futuro perché è uno di quei casi in cui tornare indietro ad un ambiente com'era, almeno senza queste cose, potrebbe essere un sogno. Si può, si può migliorare tutto, basta pensarci, basta scegliere i comportamenti giusti. Allora è la questione, uno degli aspetti di sostenibilità che dobbiamo affrontare con sempre maggiore energia e sotto questo aspetto di accordi internazionali, le direttive della comunità europea sono molto efficaci e vanno eseguite. Sappiamo quanto è difficile per i Paesi attenersi a quelle cose, però bisogna insistere. Bene, con questo augurio di un ritorno al futuro vi saluto, vi ringrazio e vi saluto con questa immagine che sembra un fiore, invece un intreccio di detriti di plastiche nel mare, è bello, ma non dovrebbe essere lì. Grazie.